Ho l'esperienza di fare questi calendari, è bellissimo, ho fatto una cosa così, è stato molto speciale, siamo divertiti, abbiamo fatto qualche risale anche, lo miglior di tutto penso che è una bella cosa, che credo che è arrivato il segnale che volevano dare con questo calendario e speriamo che piaccia tanto a ieri. A Napoli sono siccissimo, neanche abbiamo tanto tempo per bere tanto Napoli o queste cose, alla fine il calendario è durissimo, dobbiamo allenare tanto e poi questo risaggiatore professionale, è un po' più. Grazie.